via 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 ok dai fai partire Marco fai uscire? no 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 Luca dai si si ok vai vai va bene va bene è lì ragazzi con l'uovo lì vedi mira l'è una fuori cosa che fare mia? con tutto che abbiamo già visto l'uomo è tutto in salato questo è tra su lo vuoi far volare o no? no 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 Grazie a tutti.